Ecco, la chiesa di Roma con Bergoglio sembra, ma ripeto la tendenza sembra avviarsi, e Pasolini così la interpretava in certo modo già col concilio Vaticano II, ecco la chiesa sceglie di non opporre una fermissima resistenza ribadendo le ragioni del sacro e dell'eterno, ma preferisce in qualche modo piegarsi, aprirsi al mondo, ammodernarsi, obbedire. Come vedremo, obbedire è uno dei verbi prediletti da Bergoglio, l'ha usato diverse volte, obbedire al potere, obbedire alle istituzioni internazionali, obbedire al governo. Ora, da un punto di vista cristiano, il Papa non può obbedire all'imperatore, voi sapete che Dante Alighieri nel De Monarchia teorizzava i due soli, il Papa e l'imperatore sono due soli che splendono di luce propria e che dipendono egualmente da Dio, sicché non può darsi una subordinazione dell'uno all'altro. Dante lo diceva per, in qualche modo, liberare l'imperatore dalla presa del Papa. Nel De Monarchia Dante, e qui sta l'elemento rivoluzionario ben messo in luce da Giovanni Gentile, secondo cui il De Monarchia di Dante è il testo che apre la modernità filosofica, l'imperatore diventa in qualche modo autonomo nel suo agire politico dal papato. Però Dante non si sogna di dire che il Papa diventa subordinato all'imperatore, sono due soli. Ecco, oggi sembra che di questi due soli uno si spenga, quello del Papa che sceglie di obbedire al potere. Ecco, sotto questo aspetto possiamo ben dire che sempre più Chiesa e Cristianesimo vengono riconosciuti, ammessi e celebrati dalla civiltà tecnomorfa, solo ove essi, Chiesa e Cristianesimo, si svuotino, si pieghino, obbediscano, neghino la propria incompatibilità cristiana con una civiltà post-cristiana e intimamente atea. Insomma, la Chiesa si nega per essere accettata, il Cristianesimo evapora per poter essere tollerato. Aprendosi al mondo per non esserne annullata, la Chiesa finisce così tragicamente per perdersi nel mondo.